Eccoci qui, buonasera cari amici, bentrovati, pronto Telenova del venerdì, come sempre ci occupiamo della nostra salute e oggi in modo particolare della nostra bocca e del nostro sorriso. Lo facciamo con una gradita ospite, la dottoressa Beatrice Cervia, odontoiatra ed esperta di estetica del sorriso. Dottoressa, ciao, buonasera. Buonasera. Allora, come sempre io dico chi vuole intervenire, chi vuole porre quesiti lo può fare, il numero lo conoscete 02, oppure brevi messaggi attraverso Whatsapp, in questo caso il numero è il 335. Allora noi soprattutto questa sera vogliamo parlare di problemi relativi alla bocca, ma per quanto riguarda soprattutto l'estetica, quindi estetica dei denti, delle labbra e via dicendo. partiamo, la dottoressa ci ha mandato alcune fotografie, partiamo con la prima, così possiamo iniziare a spiegare di che cosa si tratta. Ok, allora, vediamo, in questa foto sono due tipi di apparecchi, uno il classico apparecchio che veniva usato una volta. Ce lo ricordiamo tutti da ragazzini. Quelli che si chiamano comunemente stelline, i brackets, e poi invece l'altro è un allineatore. Gli allineatori sono degli apparecchi invisibili, che permettono così di aumentare il nostro range di pazienti perché vengono utilizzati anche su dei pazienti di età adulta, perché sono praticamente invisibili. Se non si porta l'attenzione... Certo, infatti vedendo così non si capisce. Non si vedono quasi, sono molto comodi e quindi vengono utilizzati per tutte le età, devo dire. Perché, come parlavamo prima, del sorriso fanno parte i denti è la loro posizione. Quindi per avere un sorriso armonico il principio è avere dei denti dritti e belli in una bella posizione. E non sempre facile perché molto spesso ci sono denti, magari sia l'arcata superiore e quella inferiore, storti e allora lì bisogna intervenire. Esatto. E non è solo un discorso di estetica. In realtà il discorso principale per cui si interviene è anche la salute, perché un dente in posizione corretta si lava più facilmente ed è più sano. Mastica anche meglio. Mastica meglio ed è più sano per tutto ciò che riguarda il parodonto, che sono i tessuti attorno al dente. Quindi è vero che il risultato che piace di più ai pazienti è l'estetica, perché a vedersi si vedono più belli, però il trattamento viene fatto anche per questioni di salute. Ecco, possiamo dire intanto, noi abbiamo visto questi apparecchi che servono appunto a raddrizzare i denti, molti pensano sempre il problema del tempo. Quanto tempo ci vuole normalmente per raddrizzare un dente? Allora, sicuramente dipende dalle situazioni, ci sono situazioni più gravi e situazioni meno gravi. Se il caso è lieve, quindi non è una situazione che comporta una riabilitazione completa, ma è un affollamento soprattutto anteriore, che è la maggior parte dei casi che si aggrava con l'età, di solito il trattamento è intorno ai 7-8 mesi, andando all'anno. Quindi è impegnativo solo perché queste mascherine vanno, essendo mobili, vanno utilizzate il più possibile, intorno alle 22 ore al giorno. Quindi praticamente dobbiamo portarla tutto il giorno, tutta la notte, soltanto con poche ore di sospensione. E le ore di concesse sono per mangiare principalmente, quindi si rimuovono per mangiare e appena finito si rimettono. E per la pulizia, ovviamente. E per la pulizia che è semplicissima, perché ormai con delle pastiglie come quelle che si usavano per le dentiere, in 5 minuti rimangono pulitissime. Forse abbiamo una telefonata. Pronto, buonasera? Pronto? Niente, allora aspettiamo la prossima. E noi intanto proseguiamo naturalmente col nostro racconto. Quando si toccano problematiche di questo tipo vediamo un'intera arcata e ahimè viene subito da pensare anche ai costi di un lavoro di questo tipo. In questo caso questi apparecchi che costo hanno? Allora, hanno un costo simile agli apparecchi classici, leggermente superiore. Dipende tanto da quanti mesi si devono portare. E dagli studi, da dove ci si trova, ovviamente noi siamo a Milano, abbiamo anche dei prezzi un po' più alti. Solitamente sono intorno ai 3.000-3.500, se il trattamento supera l'anno si va verso i 4.000-4.500. Però perché nel costo sono comprese anche le visite periodiche, una volta al mese o un pochino meno ci si rivede e si consegnano le nuove mascherine perché sono tante mascherine che vengono cambiate ogni due settimane e dieci giorni. Perché bisogna... Perché ognuno ha un'informazione che passa al dente. Certo. E quindi bisogna cambiarle. E anche man mano che il dente cambia posizione, ovviamente bisogna trovare la configurazione adeguata. Esatto. E quindi nel prezzo è inclusa una visita periodica, un'igiene, solitamente sempre inclusa anche l'igiene periodica e poi comunque il seguito, cioè è un pacchetto completo. Nel frattempo è arrivato una richiesta di un telespettatore che ci chiede se questo tipo, probabilmente anche lui si ricorda dei vecchi apparecchi che si portavano da ragazzini, ecco questi apparecchi hanno... chiede un limite di età. No. È proprio questo il bello. C'è un limite inferiore, nel senso che sui bambini non vengono utilizzati, soprattutto perché i bambini piccoli non li portano, è più difficile un apparecchio rimovibile. Sui bambini si mette una cosa fissa così li sta e fa il suo movimento. Sugli adulti va benissimo fino all'età in cui ci sono i denti ed è sempre possibile farlo. È più difficile modificare la posizione dei denti da giovani o da adulti? È uguale. Il problema è che nei bambini si può attuare anche modificando le basi osse, quindi dai 14 anni in giù si può attuare una modificazione anche per esempio del palato, si può allargare fisicamente il palato e negli adulti non si può più, si possono solo muovere i denti e quindi il risultato estetico sarà diverso. Però questo è per i casi più gravi soprattutto. Passiamo ad un'altra foto, andiamo avanti con la prossima così vediamo un'altra situazione. Ecco qua. Ok, in questo caso adesso invece stiamo parlando di riabilitazione protesica, quindi la foto a sinistra è una corona e quella a destra è una faccetta, le famose faccette di cui si parla molto adesso. I faccette ricoprono. Ricoprono la parte esterna del dente e permettono di ristabilire una forma, un colore e una posizione molto più estetica, che sono tutti i sorrisi che si vedono in televisione, quelli perfetti e bellissimi. Smaglianti. Sono ceramiche, quindi il materiale permette di avere una lucentezza e un colore bellissimo, sono anche molto estetici, non sono per forza bianchi bianchi, si sceglie insieme in base all'età, sia il colore che la forma, anche in base alla forma del viso, non tutti i visi sono uguali né in tutte le forme dei denti, quindi si ha un risultato estetico sensazionale ovviamente. Cosa si fa? Queste piccole faccette, quindi che hanno uno spessore sottilissimo, quasi quello di una lente a contatto, si cementano in modo permanente sul dente, quindi è come un contrattamento permanente, non si può tornare indietro. Anzi, è duraturo nel tempo questo? Sì, assolutamente. Tutte le varie dicerie che le faccette si staccano, non è vero, se sono fatte in modo corretto non si staccano e si rompono come si romperebbero i denti. Abbiamo una chiamata, pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, prego. Buonasera, io volevo chiedere alla dottoressa un'informazione sulle faccette, in questo senso mia figlia che ha 15 anni ha delle maschie bianche e il dentista, ma ha detto di aspettare qualche anno e poi di mettere le faccette. La mia domanda è, c'è qualcosa di diverso o è l'unica soluzione? Le rispondiamo, grazie. Domanda interessante, è per esempio l'ultima immagine che vi avevo fornito, se possiamo metterla. L'ultima, ok, esatto. Queste ad esempio sono delle white spot, delle macchie bianche, si vedono spesso sui denti, hanno diverse cause. La parte di sopra? Sì, la parte di sotto, sopra, mentre la parte di sotto è la macchia trattata. E il risultato? Non con faccette. Quindi c'è un trattamento innovativo che attraverso dei liquidi specifici si riesce a penetrare all'interno della macchia e ottenere il mascheramento che non si vede più alla fine del trattamento. È fatta una pulizia totale, insomma, la sparisce? Sì, esatto. Sono delle infiltrazioni di resina che si riesce a far penetrare la resina e a togliere questa macchia bianca. Quindi è la signora che ha telefonato, che consiglio possiamo dare? Di parlare con un altro dentista che fa questo tipo di trattamento perché è completamente conservativo, non va a toccare la superficie del dente, quindi non è invasivo e non dà effetti collaterali. Quindi è molto sicuro? È molto sicuro, si utilizza solitamente nei ragazzi dai 15 anni in su, 16 anni in su, però non dà problemi, non è la faccetta, la faccetta è molto estetica, è molto bella, ma nel caso di un dente giovane e sano è un peccato. Certo, infatti. Altra telefonata, pronto? Buonasera. Pronto? Mi sente? Sì, prego. Prego. Buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, io vi ho chiesto di parlare di no, perché fanno anche di cura dei denti. Sì. Mi sente? La sentiamo, forse deve abbassare il volume della tv. Guardi, l'ho azzerato. Ah, perché c'era in bombo. Va bene, provi a parlare. Allora, io a settimana ho finalmente tolto il mulare. Sì. Ecco. Però c'è una cosa che non capisco, perché nelle istruzioni che mi ha dato il dentista c'è scritto che non devo fare il risciacquo, altrimenti salta come una specie di protezione perché mi ha messo i punti. Ho capito. Ma però al tempo stesso bisogna tornare a lavarmi i denti e fare sciacquo con la clorexidina, che è un colluttorio. Ma io voglio capire, non è pericoloso poi, perché quando uno si lava i denti è normale che poi fa lo sciacquo. E allora o l'una o l'altra. E l'ultima cosa che vi dico è, per chi ha una situazione di spazio tra due denti dove non è stato fatto nessun ponte, quelle mascherine che diceva chiamate in vita line, se non erro, quelle trasparenti. Quelle trasparenti. Esatto. A me dissero, guardi, è molto meglio che lei si tiene i denti leggermente storti, perché non sono così osceni, però sono leggermente storti, piuttosto che tenerseli tutti dritti per poi soffrire a vita, perché quando si è una volta spostati potrebbero dare i numeri. Quindi quando io provo a chiedere, mi hanno bocciato questa roba. Non so, è possibile? Grazie. Grazie, buona serata. Allora, il primo quesito era relativo tolto il molare e dunque sciacquare non sciacquare cosa fa? Allora, il primo giorno e anche il giorno seguente si deve stare attenti a non sciacquare energicamente. Perché? Perché una volta rimosso il dente si crea una superficie come se fosse un taglio. Non esiste la crosta in bocca, ma comunque se ci si taglia, non si può continuare a pulire. Perché? Perché quel piccolo coagulo continuerà a sanguinare. Se noi sciacquiamo energicamente togliamo quel tappo di coagulo che si forma e che sta cercando di guarire la nostra ferita e si sanguina. Quindi questo è il senso. Quindi evitare lo sciacquo per alcuni giorni? Sì, per i primi giorni va bene 48 ore massimo. Il giorno stesso è la cosa più importante. Poi invece la ferita va mantenuta pulita. Per questo sono fondamentali gli sciacqui. Per esempio con la clorexidina che è un disinfettante orale molto efficace. Quindi solo i primi giorni non bisogna fare gli sciacqui. Dopo, assolutamente sì. E lavare sempre tutta la zona, nella zona in cui è stata fatta l'estrazione, più delicatamente. Ecco, la seconda parte della domanda è relativa invece al discorso appunto degli spazi che resterebbero vuoti, diciamo. Certo. Allora, gli spazi di cui parla, secondo me, si riferisce a diastemi. Quindi degli spazi già esistenti indipendentemente da aver perso o no un dente. Lui dice dei denti un posto. Quello tipico è quello in mezzo ai due denti, il diastema centrale. Quando c'è uno spazio tra i due denti centrali, il più famoso, c'è quello che si vede di più. Con l'apparecchio si può benissimo chiudere. Secondo me quello a cui si riferiva il suo dontoiatra è il fatto che comunque alla fine del percorso con un allineatore o con un apparecchio, qualsiasi tipo di apparecchio, bisogna mantenere la posizione dei denti. Quindi durante tutta la vita bisogna usare una contenzione. Che cos'è la contenzione? È un dispositivo che può essere o fisso o mobile che mantiene fermi i denti perché i denti si spostano tutta la vita. Tendono a spostarsi ad andare verso il centro o se sono stati raddrizzati a tornare nella loro posizione originale. Bisogna bloccarli. Bisogna bloccarli. Infatti succede tante volte che arrivano dei pazienti che dicono eh ho avuto i denti drittissimi dopo l'apparecchio per qualche anno e poi invece è tornato tutto come prima se non peggio. Quindi è un lavoro che va avanti nel corso del tempo. Però non è così fastidioso perché se si fa un trattamento con gli allinatori poi continuare ad utilizzarli solo di notte si è abituati perché per un anno si sono utilizzati tutto il giorno e invece una contenzione fissa è semplicemente un filo metallico che si attacca nella superficie interna dei denti che non si vede neanche e li mantiene fermi. Perfetto prendiamo un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Niente questa è sfumata. Allora io avevo un altro quesito arrivato da un altro telespettatore che invece era in relazione hanno visto l'apparecchietto quello trasparente e in quel caso era tutta l'arcata e ci chiedono invece se può essere fatto anche su una parte dell'arcata. Allora la forma è sempre quella che comprende sempre tutta l'arcata però può agire solo su una parte. Ha bisogno comunque per restare in posizione per avere una certa forza di occupare tutta l'arcata. Però può riguardare... Però può muovere solo pochi denti. Ecco prendiamo adesso un'altra chiamata. Pronto? Buonasera. Buonasera. Vorrei fare una domanda. Prego l'ascoltiamo. La dottoressa. Volevo sapere se le faccette si possono rompere e soprattutto se bisogna tenerle tutta la vita si devono cambiare dopo un po' di anni. Grazie. Grazie. Allora si possono rompere e bisogna cambiarle, tenerle tutta la vita? Cioè chiede qui. Ok. Si possono rompere hanno la stessa forza dei denti. Quindi con un colpo, come si romperebbe un dente, si rompe una faccetta. Certo. Nello stesso modo. Quindi non sono fragili, però bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Se uno ha anche semplicemente una bottiglia sul dente, si rompe il dente, si cade, si rompe la faccetta come il dente. Però la durata? La durata invece solitamente se sono fatte in modo corretto durano tutta la vita. Quindi non c'è bisogno di sostituirle. Una volta, allora ormai siamo arrivati ad avere un risultato estetico tale che non c'è più bisogno. È vero che 15 anni fa erano le prime che arrivavano addirittura dall'America, nello studio in cui lavoravo siamo stati tra i primi a utilizzarle, arrivavano dall'America e non erano così belle, erano tutto uguali, molto industriali. Anche lì c'è stata un'evoluzione. Adesso vengono rimosse, però quelle che vengono fatte adesso sono perfette e resteranno tutta la vita. Va bene, adesso abbiamo un breve stacco pubblicitario, poi ancora insieme alla dottoressa per altri particolari che riguardano l'estetica. Eccoci qui in seconda parte di Pronto Telenova, stiamo parlando dell'estetica del sorriso con la dottoressa Beatrice Cervi Odonto Iatra, esperta appunto di estetica del sorriso. Proseguiamo con le nostre fotografie, vediamo un po' gli effetti poi dei vari trattamenti. In questo caso qui parliamo di colore, vediamo che differenza tra la parte sinistra e quella destra. Esatto, parliamo di sbiancamento anche che è un argomento molto richiesto anche dai pazienti. Come dicevo prima, i denti bianchi perfetti che vediamo in televisione, degli attori, sono per la maggior parte delle faccette e delle riabilitazioni, infatti se si va semplicemente a cercare su internet il prima e il dopo cambia completamente e non si otterrà mai. C'è sempre il lavoro del dentista dietro. Con lo sbiancamento non si potrà mai ottenere un risultato perfetto e anche un colore bianco come quello di una ceramica che è appunto il materiale delle faccette. Però si può con un trattamento conservativo che non è impegnativo né economicamente né di tempo e neanche biologicamente perché il dente non viene toccato, si può andare a migliorare il colore del dente. Ecco, molti dicono ma lo sbiancamento può portare via della superficie al dente, può grattare troppo, è vero questo? No, aumenta la porosità del dente, quindi temporaneamente può aumentare la sensibilità perché il dente, la superficie del dente diventa leggermente porosa e quindi si sentono di più il caldo e il freddo. Però non va a rovinarlo, l'unica cosa durante lo sbiancamento bisogna sempre stare attenti all'alimentazione, quindi ai cibi colorati o no e anche al fumo, non si è sempre sconsigliato ai fumatori lo sbiancamento. Ma è vero che anche il caffè è meglio macchiato. E li siamo messi molto male, un po' più chiare è meglio. Qui più o meno quanto, ecco, quanto dura uno sbiancamento? Allora lo sbiancamento dura dipendendo dalle abitudini perché se uno è un fumatore, beve tanti caffè o anche il tè, il tè macchia tantissimo, l'effetto dello sbiancamento durerà poco, se invece le abitudini alimentari e i vizi non ci sono, l'effetto dello sbiancamento dura fino a un anno. Io consiglio sempre di ripeterlo una volta all'anno, non di più. E ci sono diversi tipi di sbiancamenti, si dividono principalmente in sbiancamenti domiciliari e sbiancamenti in poltrona. Quelli in poltrona si fanno direttamente dal dentista, quindi in una salute prolungata dipendendo dal tipo di sbiancamento, si applica il prodotto che ha un principio attivo uguale in tutti i due tipi di sbiancamento, che però quello in poltrona è molto più concentrato, quindi in una quarantina di minuti solitamente si esce dallo studio dentistico che i denti sono già bianchi. In questo caso il trattamento è più veloce, è diciamo più comodo, però a mio parere l'effetto è meno duraturo nel tempo. Lo sbiancamento domiciliare invece si producono delle mascherine su misura perfettamente, simili a quelli degli apparecchi che abbiamo viste prima, nel quale si applica un agente sbiancante uguale a quello che si utilizza in poltrona, però molto 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 in concentrazioni molto più basse, quindi lentamente graduale, quindi secondo me è anche più delicato e meglio, si vanno a sbiancare i denti, solitamente si utilizza per dieci notti consecutive e si ottiene un risultato duraturo nel tempo e secondo me è bellissimo. L'unico problema è che appunto bisogna avere delle accortezze maggiori. Stare attenti poi a quello che si mangia, che si deve. In quei dieci giorni e nei giorni seguenti bisogna stare attenti a non bere bevande troppo acide, neanche colorate, cibi colorati che io dico sempre ai miei pazienti si deve evitare quello che macchierebbe una maglietta bianca. tantissime cose, tantissime cose, frutti rossi, le barbabietle, la curcuma, il curry, un elenco lunghissimo, però se veramente si vuole avere un risultato perfetto io consiglio sempre lo sbiancamento domiciliare. E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che i prodotti che hanno un effetto sbiancante li possiamo vendere solo noi odontoiatri, tutti quelli che si trovano online o sono abrasivi o non contengono, ma soprattutto da utilizzare in queste mascherine perché si vendono, si trovano su Amazon a un decimo del prezzo, ma non possono contenere la quantità necessaria di principio attivo con effetto sbiancante. Per legge li possiamo vendere solo noi, almeno in Italia. Quindi le cose su internet come sempre bisogna un po' diffidare. Esatto, bisogna diffidare. Soprattutto quando c'è di mezzo la salute. Quando c'è di mezzo la salute anche perché se costa da una parte uno e dall'altra dieci ci sarà un motivo. Certo. Ecco, un telespettatore chiede però se a livello appunto di sbiancamento, lo sbiancamento può essere fatto anche, ahimè, da chi non ha i denti perfetti ma magari ha una serie di denti storti oppure ha problemi di altro tipo. Allora, sui denti storti sicuramente sì e non c'è problema. Il problema è quando i denti iniziano ad essere ricostruiti, quindi ci sono delle otturazioni anteriori. Perché? È semplicemente con lo sbiancamento si riesce a sbiancare il dente ma non la ricostruzione. Quindi si rischia di avere un effetto estetico peggiore perché si va a rendere più visibile l'otturazione. In questo caso invece, per esempio, questa è una discromia dovuta a macchie di tetracicline. Erano degli antibiotici che si utilizzavano, si utilizzano ancora ma ai bambini non vengono più dati perché davano questo effetto. Per il tempo erano molto frequenti. Erano molto frequenti e in questo caso lo sbiancamento aiuta. Viene solitamente effettuato uno sbiancamento domiciliare prolungato e a volte associato a quello in poltrona, quindi è un trattamento molto più lungo e non si ottiene un risultato perfetto ma migliora molto. Nel caso va associato uno sbiancamento a una riabilitazione con faccette che però va a comprendere tutto il sorriso perché non si possono fare in questo caso due denti ma solitamente tutti quelli che vengono escosti. Concludiamo appunto con il discorso che abbiamo visto più volte, la bocca e quindi le labbra. Sulle labbra che consiglio possiamo dare per chi vuole rimpolpare, per chi vuole dare nuova vita? Le labbra sono proprio il contorno del nostro sorriso, quindi sono fondamentali per ottenere un risultato perfetto e soprattutto adesso va molto di moda il filler alle labbra che va a modificare un pochino la forma delle labbra e a rimpolparle. Il mio consiglio è sempre di affidarsi a un professionista e informarsi sui lavori di questo professionista, quindi seguirli, vedere se rientrano nei gusti perché io per esempio che faccio questo tipo di lavoro di medicina estetica mi piace un risultato molto naturale, non mi piace stravolgere... Esatto, perché molto spesso invece si vedono personaggi famosi con delle labbra che appaiono molto poco naturali. Esatto, che questo è un po' il dismorfismo della nostra società, non è sempre colpa del medico, a volte è colpa anche del paziente che va a richiederlo. Vuol seguire mode magari... Per questo bisogna affidarsi a un professionista e in più bisogna anche capire che non tutte le labbra sono uguali e la situazione di partenza è fondamentale, e anche l'età sicuramente su una paziente intorno ai 60 anni non avrà mai il risultato di una paziente di 20. l'età sicuramente. Certo. E ci sono delle caratteristiche iniziali che non permettono di avere dei risultati perfetti perché anche molte asimmetrie che si possono correggere ma non si otterranno mai delle labbra come l'Angelina Jolie. Ecco, e anche per le labbra possiamo concludere dicendo un trattamento quanto può durare, naturalmente a seconda della situazione, però diciamo un trattamento base così per rinvigorire, per rimpolpare, per dare nuova vita alle nostre labbra. Allora, dipende dal prodotto utilizzato, io utilizzo solamente acido ialuronico e il filler più viene fatto è più dura, nel senso che solitamente la prima seduta dura intorno ai sei mesi, al ritocco ai sei mesi si aspetta un anno a rivedere la paziente perché il corpo lo riconosce e lo metabolizza più lentamente, quindi dura di più l'effetto e si va a fare sempre meno, quindi magari poi ogni due anni, ogni due anni e mezzo si vanno a fare solo piccoli ritocchi. Si cominciano però a vedere i risultati quasi subito. Subito, subito. Quello è immediato. Immediato il risultato perché proprio viene iniettata una sostanza che va a dilatare i tessuti e quindi a gonfiarli e pian piano, essendo una sostanza riassorbibile perché l'acido ialuronico è già presente nei nostri tessuti, è completamente accettato, non è come una volta che si utilizzava il silicone che hanno fatto dei disastri irrimediabili. Esatto, non si sapeva come andava a finire. Adesso è una sostanza naturale e quindi è bello che si riassorba, è giusto. Ed è doveroso affidarsi anche dei professionisti seri. Siamo giunti in conclusione. Ringrazio veramente tanto la dottoressa Beatrice Cervio, dontoiatra, ripeto esperta di estetica del sorriso. Grazie e magari appuntamento alla prossima volta. Alla prossima volta, è stato un piacere. Allora vi ricordo che Pronto Telenova ovviamente torna lunedì, adesso invece c'è l'anteprima Nuova Stadio con Michele Marchetti. Buon proseguimento, buona serata. Grazie. Grazie.